visioni della corsica gli incantevoli dintorni di agiaccio tramonto sul golfo visto dalla cittadella di capo di bolla l'ultimo raggio di sole sulle isole sanguinarie il villaggio la stretta di morosavia luogo nativo del grande patriota corso pasquale pauri nel 1889 la sua salma fu trasportata in corsica e tumulata nella casa paterna sulle alture a settentrione di agiaccio sorge il castello della punta costruito tra il 1886 ed il 1894 con materiale di demolizione della reggia delle puglieri per onorare la memoria di napoleone un reparto di nostri bersaglieri di passaggio non manca di visitare il castello che contiene decorazioni e mobili dei secoli sedicesimo diciassettesimo e diciottesimo ritratti del david e del gerard e altri quadri di scuola italiana maggiore di corso Grazie a tutti.